La scienza assieme all'arte, le foto al fianco dei disegni per regalare così emozioni dallo spazio. Questo quanto nato dalla collaborazione tra il liceo artistico Piero della Francesca e l'associazione Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo. 16 studenti dell'Istituto Aretino hanno infatti realizzato delle tavole da disegno raffiguranti soggetti a tema astronomico. Le opere sono state poi riunite sotto il titolo Mondo Immaginario di Spazio, Pianeti e Galassie. È stato un lavoro molto bello, un'esperienza molto bella, soprattutto collaborare con il gruppo Astrofili di Arezzo. È stato anche bello prendere spunto da questi quadri e siamo fieri di rappresentare il nostro liceo con questi progetti. È stato molto bello realizzarli insieme. È stato fantastico, soprattutto devo nominare la nostra socia Erika Monforti che ha curato tutto l'aspetto della mostra con l'insegnante Francesca. Hanno curato tutto questo aspetto, quindi è stato molto bello per noi. Io come Presidente sono molto orgoglioso della mia socia e di tutta questa magnifica esperienza. L'esposizione di queste opere assieme alle fotografie astronomiche dei soci del gruppo sarà visitabile fino al prossimo 4 gennaio nel loggiato al secondo piano del Palazzo Comunale Aretino. È importante anche per valorizzare il lavoro fatto dai ragazzi, il lavoro fatto anche dal gruppo Astrofili. Una collaborazione che ha creato dei dipinti, ha creato delle tele meravigliose. Quindi l'incontro tra scienza e arte si è fuso e ha creato questi capolavori che tutti voi potrete ammirare insieme anche al planetario che si trova qui adiacente. In futuro le opere saranno ospitate dall'ospedale San Donato di Arezzo. In un reparto per comunque abbellire, rendere piacevole sia chi lavora sia chi ha indigenza, fargli passare del tempo.